Oui, brutto pezzo di camperista! Come stai? Tutto bene a casa, noi tutto bene appena sbargati sull'isola di Rodi dopo due mesi di gironzolo a Creta. In questo video ti voglio far vedere le ultime innovazioni del settore camper con tanti veicoli elettrici. Per prima però saliamo sul drone per qualche bel paesaggio dell'isola ellenica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Oggi ti mostrerò la gamma dei nuovi camper e roulotte elettrici progettati esclusivamente per un pianeta dal pollice verde. Fixter Electric. L'azienda olandese Fixter ha collaborato con il produttore di furgoni VDL per produrre il primo camper elettrico compatto del paese. La conversione può essere applicata a qualsiasi furgone elettrico o con motore termico e anche alla Toyota Pro Ace elettrica, sia passo lungo che passo corto. I due modelli, i Fixter e i Fixter XXL. Il camper ospita fino a quattro persone grazie al divano letto con una lunghezza compresa tra un metro e novanta e due metri a dieci e un secondo letto nel classico tetto a soffietto. La comoda esperienza di campeggio è data dallo spazioso armadio, dai due fuochi della cucina, un grande frigorifero e un tavolo pieghevole. Il sedile passeggero anteriore girevole di serie, mentre il sedile guida girevoli, pannelli solari, il quinto posto letto e il tendalino sono accessori aggiuntivi. Banali! Deathless e-home caravan. Il concept Deathless e Electric Caravan è stato presentato nel 2018 e quest'anno l'azienda ha raggiunto un importante traguardo nei suoi test di sviluppo. Trainata da un Audi e-tron elettrica, il trailer ha viaggiato dallo stabilimento dell'azienda Aesni in Germania fino al Lago di Garda, passando sulle Alpi italiane. L'intero viaggio è durato 6 ore e 12 minuti e il convoglio ha percorso 386 chilometri, senza necessità di fermarsi. Questo risultato è stato possibile dalla tecnologia di trasmissione installata sul rimorchio. Consiste in un sensore di forza che rileva quando il veicolo è in accelerazione o decelerazione, attivando i motori elettrici. Il Tesla Cyberlander. Svelato a novembre del 2019, il Cybertruck della Tesla deve ancora arrivare sul mercato come modello pronto per la produzione. Tuttavia, questo non ha impedito all'azienda Stream Inc. di creare un camper per l'attesissimo veicolo. La cellula Cyber si installa facilmente nel cassone del pick-up e non crea alcuna resistenza aggiuntiva in modalità di trasporto. Una volta arrivati a destinazione del luogo scelto per campeggiare, il Cybertruck si espande per offrire uno spazio funzionale per cucinare, lavorare o rilassarsi davanti a una TV da 32 pollici. Ah, è gabbetto. I sedili si trasformano in un letto matrimoniale per due persone. Beh, è matrimoniale. La cucina offre un piano cottura-induzione, un lavello intelligente con un rubinetto a controllo vocale. Inoltre, la compagnia offre un'opzione con bagno e serbatoi di acqua dolce e grigia a bordo. Il Cyberlander pesa 620 kg circa e, secondo l'azienda, ridurrebbe l'autonomia del veicolo solo del 5%. Nissan e-NV200 Winter Camper. Anche se non è un modello pronto per la produzione, il Winter Camper dà una piccola anteprima di cosa si può fare con un veicolo elettrico NV200 e Vaglia e un po' di fantasia. Il modello è ben rialzato da terra, sopra ha quattro pneumatici robusti e doppi fari montati su una barra in acciaio rinforzata nella parte anteriore. All'interno c'è una mini cucina con frigorifero, letti pieghevoli e una zona pranzo. Il tetto può essere alzato con il classico soffietto, aumentando l'altezza interna. Il Winter Camper ha inoltre un inverter integrato per l'alimentazione di elettrodomestici e accessori elettrici, un sistema fotovoltaico per la ricarica della batteria e bare per il montaggio di varie attrezzature. Nissan non prevede di produrre il Winter Camper, ma offre tutti gli accessori in evidenza come optional extra per i loro minivan. Clicca sul pulsante mi piace se credi nel futuro di Camper Elettrici o semplicemente per sostenere il mio canale. Detto questo, andiamo avanti. Polydrops P17A, questa start-up con sede in California, ha creato un rimorchio adatto a tutti gli amanti del fuoristrada. Polydrops ha utilizzato una parte ridotta del proprio telaio alluminio, integrando un sistema di batterie da 2,4 kW nella zona posteriore. La batteria alimenta un sistema completo HVAC, ovvero riscaldamento, ventilazione e area condizionata, oltre all'illuminazione interna LED ed altri dispositivi per i viaggiatori. La batteria si ricarica utilizzando un pannello solare standard da 260 Watt, che può essere ampliato fino a 520 Watt, e insieme alla batteria da 4,8 kW opzionale, il produttore assicura fino a 6 giorni di autonomia in libera. La piccola casa su ruota è dotata di una cucina con piano cottura a induzione, frigorifero e lavandino. Un altro vantaggio del rimorchio P17A è la sua forma futuristica ultraangolare, che abbassa i consumi grazie alla sua aerodinamicità. VW e-crafter modulo Plugvan Camper. Con un'autonomia di 170 km in perfette condizioni, la prima generazione dell'e-crafter non può essere considerata un camper degno per viaggi a lunga distanza. Tuttavia, la Volkswagen, insieme a Franz Oysterholz, ha recentemente completato un percorso di 7500 km. Invece di creare un allestimento personalizzato completo per questo furgone, ha installato un modulo Plug & Play. Questa soluzione è comoda per creare uno spazio camperizzato nei due metri di lunghezza disponibili, con tutte le comodità che troviamo in un appartamento con caratteristiche Smart Home. Riscaldamento, aria condizionata, conversione della panca in un letto matrimoniale e una mini cucina. Non c'è il bagno, ma ha sufficiente spazio per allestire un piccolo WC a cassetta o il classico porta-potti. Frank è partito dalla sede della Volkswagen Hannover in Germania, ha visitato la sua isola natale danese Samso, ha raggiunto Caponord e poi ha completato il suo viaggio di ritorno. Questa avventura è durata 18 lunghi giorni con 95 soste di ricarica, ma Frank è pronta a rifarla anche domani. Electric Brands X-Bus Originariamente presentato come un e-bus concept, il progetto modulare X-Bus dell'azienda tedesca Electric Brands promette di offrire una varietà di modifiche da un semplice furgone per trasporto persone o merci ad un camper elettrico. Questo modello sarà offerto nelle configurazioni standard e fuoristrada, alimentato da quattro motori che producono 20 cavalli di potenza continua o 65 cavalli al piccolo. L'X-Bus incorporerà un tetto collassabile per un ulteriore spazio in altezza e una zona posteriore scorrevole per creare uno spazio extra per il montaggio di un divano letto per due persone. L'azienda promette che la cabina prevede un frigorifero, una zona cottura, una televisione e un lavello conservatorio d'acqua. Gli elettrodomestici saranno completamente alimentati dal pacco batterie del veicolo che va da 10 a 30 kilowatt e può essere ricaricato tramite un caricabatteria a 220 volt o un pannello solare a tre moduli sul tetto. Success Camper Van La Success Camper Van, con sede nel Regno Unito, stava progettando conversione camper per l'MV200 da cinque anni circa, quando nel 2020 l'azienda ha deciso di espandere il proprio programma ad una vecchia versione elettrica del Nissan MPV. Con l'esperienza raccolta lavorando su questo modello, sono riusciti ad adottare il camper di un divano convertibile a letto e di una cucina completamente attrezzata, con un frigorifero da 50 litri, piani cottura, un lavello straibile, altri spazi di stivaggio per le conserve e una macchina del caffè opzionale. Ma ci facciamo un caffèrino! Infine, questo camper ha un tetto a soffietto con il telaio di rinforzo, sostenendo il peso di un letto per due adulti. Questa soluzione rende possibile ospitare per la notte fino a quattro persone. Canoo! La start-up elettrica Canoo è un progetto ambizioso per il futuro. L'azienda infatti sta utilizzando la propria piattaforma modulare multiuso per sviluppare contemporaneamente diversi modelli elettrici. Il più recente è il camion pick-up Canoo, che ha una cabina anteriore a forma di bolla, un letto di due metri che può essere esteso fino a due metri e mezzo e 800 kg di capacità di carico. Il modello è offerto in una configurazione a trazione posteriore o anche integrale e possono percorrere 320 km con una carica. Canoo dice che il veicolo sarà compatibile con diverse scocche e tende da tetto di altre marche, ma i trends rivelano che potrebbe offrire una soluzione direttamente dalla fabbrica, grazie ad un portapacchi aggiuntivo. Wellhouse Leisure Vauxhall Vivaro Elettrico Dopo aver realizzato un camper con motore termico su base Vauxhall Vivaro, l'azienda britannica Wellhouse Leisure è pronta a prendere ordini per il nuovo vivaro elettrico. Il camper ha quattro posti e dotato di tetto a soffietto con letto sopraelevato come optional, frigorifero a compressore da 25 litri, serbatoio a acque chiare a bordo, gruppi di alimentazione 12 volt e 220 volt e impianto di riscaldamento da 2.2 kilowatt. Di seri è inclusa anche una cucina a gas con due fuochi e l'illuminazione interna completa. Lo spazio per dormire è fornito da un letto pieghevole, mentre una batteria servizi e un pannello solare da 100 watt aiutano ad alimentare e ricaricare tutti gli apparecchi collegati. Sia il sedile del conducente che quello del passeggero sono girevoli, con l'opzione di poter aggiungere un ulteriore posto. LEVC camper elettrico I puristi del veicolo elettrico non accetteranno il camper LEVC britannico nella famiglia dei veicoli green, poiché i suoi 500 km di autonomia totale sono per la maggior parte fornite da un ampliatore di autonomia a benzina. Tuttavia, per il momento, l'allestimento potrebbe davvero essere un'alternativa interessante per il viaggiatore del weekend, che a volte vogliono andare oltre il limitato raggio di percorrenza di tutti i camper elettrici. Nel caso del camper LEVC sono solo 100 km ad emissione zero. Questo camper offre un layout di base con i classici sedili anteriori girevoli, tetto a soffietto, quattro posti letto, angolo cottura integrato e tavolo centrale ribaltabile. Per questo modello, LEVC offre elementi di design esterni distintivi e opzioni di colori brillanti in modo da distinguersi nella folla convenzionale del campeggio. Quali sono i tuoi pensieri su questa classifica degli electro camper di domani? Questi veicoli hanno le caratteristiche per soddisfare le tue esigenze di campeggio? Scrivi cosa ne pensi sotto al video nella sezione dei commenti, mi raccomandi, schiaccia il pulsante mi piace e iscriviti al canale per la tua dose settimanale di contenuti sul mondo del camper e del viaggio itinerante. Se invece il video non ti è piaciuto, fai finta che non mi conosci.